seste mansioni capitolo primo dimostra come quando il signore comincia a concedere maggiori grazie ci siano maggiori sofferenze ne espone alcune e dice come si comportino di fronte ad esse coloro che già stanno in questa mansione è utile per chi soffre interiormente veniamo ora con l'aiuto dello spirito santo a parlare delle seste mansioni dove l'anima già ferita dalla l'amore dello sposo cerca con maggiore impegno l'opportunità di stare sola e per quanto le è possibile tenuto conto del suo stato di eliminare tutto ciò che può essere di ostacolo alla sua solitudine la vista dello sposo è rimasta talmente impressa in essa che tutto il suo desiderio è di tornare a goderne ho già detto che in questa orazione non si vede nulla nemmeno con l'immaginazione perché si possa parlare di vista uso il termine vista per il paragone a cui ho fatto ricorso ormai l'anima è ben decisa a non prendere altro sposo ma lo sposo non va dal suo grande desiderio di vedere celebrato il fidanzamento e gli vuole che lo desideri ancora più intensamente e che le costi qualcosa quel bene più grande di ogni bene ora pur essendo poco tutto quello che si può soffrire di fronte a un così grande guadagno io vi dico figlie mie che l'anima ha bisogno della testimonianza e del pegno di cui già si vede favorita per riuscire a sopportare le prove che l'attendono o mio dio quali sofferenze interiori ed esteriori l'anima soffre prima di entrare nella settima mansione in verità quando alcune volte ci penso temo che se si prevedessero sarebbe assai difficile che la nostra debolezza naturale si determinasse a sopportarle per quanti bene ci si prospettassero salvo che non si fosse pervenuti alla settima mansione dove l'anima non ha più paura di nulla non essendoci nulla che non sia profondamente decisa ad affrontare per amore di dio ne è causa il fatto dell'essere lì quasi sempre in tale unione con sua maestà da trarne tutta la forza di cui ha bisogno credo che sia opportuno parlarvi di alcune sofferenze che qui si soffrono e di cui ho la certezza assoluta forse non tutte le anime saranno condotte per questa strada anche se dubito molto che vivano del tutto libere da sofferenze terrene quelle che sia pur ad intervalli godono realmente dei beni del cielo benché non intendessi parlare di ciò ho pensato che le anime oppresse da tali angustie avranno grande consolazione nel sapere cosa accada a quelle favorite da dio di simili grazie perché allora sembra davvero che tutto sia perduto non parlerò di tali sofferenze nel loro ordine progressivo ma come mi si presenteranno alla mente voglio cominciare dalle più piccole che sono effetto di certe mormorazioni sia delle persone con cui si hanno buoni rapporti sia di quelle con cui non se ne hanno e delle quali non si sarebbe mai pensato che potessero occuparsi di noi vuole fare la santa dicono esagera nelle pratiche per ingannare il mondo e far apparire spregevoli gli altri che senza tante cerimonie sono migliori cristiani di lei e occorre notare che essa non fa nessuna cerimonia ma cerca solo di adempiere bene i doveri del suo stato coloro che stimava amici si allontanano da essa anzi proprio essi la mordono con maggiore accanimento e sono queste le ferite che dolgono di più dicono quell'anima è fuori strada e vive un grande inganno tutto è opera del le avverrà come alla tale allata l'altra che si sono perdute da motivo discreditare la virtù inganna i confessori e andranno da loro a dirglielo riferendo esempi di ciò che è accaduto a parecchi che si sono perduti seguendo questa strada e mille specie di derisioni di chiacchiere simili conosco una persona che al punto in cui stavano le cose temette molto di non trovare più chi la confessasse essendo molte le dicerie che correvano sul suo conto non è il caso di indugiare a parlarne il peggio è che tali mormorazioni non finiscono tanto presto ma durano tutta la vita con la continua raccomandazione che gli uni rivolgono agli altri di guardarsi dal trattare simili persone mi direte che c'è anche chi ne parla bene o figlie mie quanto sono pochi fautori in confronto ai molti denigratori del resto le lodi sono un altro motivo di angustia maggiori dei precedenti l'anima infatti riconosce chiaramente che se ha qualche bene le è dato da dio e non è in alcun modo suo essendosi vista poco prima assai povera in preda a grandi peccati pertanto il sentirsi lodare le procura un tormento intollerabile almeno all'inizio dopo infatti meno per alcune ragioni la prima perché l'esperienza le mostra chiaramente che gli uomini sono pronti a dire bene come a dire male così che non fa più conto di una cosa che dell'altra la seconda perché è stata più illuminata dal signore sul fatto che nessun bene è suo ma dato da sua maestà è come se lo vedesse in una terza persona dimenticando che si tratta di lei si rivolge a renderne lode a dio la terza perché avendo visto alcune anime avvantaggiate dal conoscere le grazie di cui dio la favorisce pensa che sua maestà abbia permesso che la stimassero buona mentre non lo è con lo scopo che ne venisse loro un bene la quarta perché tenendo presente più che il proprio l'onore e la gloria di dio si libera dal timore frequente nei principianti che quelle lodi debbano esserle dannose come ha visto che è stato per alcune persone e le importa poco di incorrere nel disonore purché per suo mezzo dio sia lodato anche una sola volta di più dopo avvenga quel che vuole avvenire queste e altre ragioni attenuano la gran pena che tali lodi producono anche se quasi sempre una qualche sofferenza sussiste a meno che non vi si presti attenzione né poco né molto ma è senza confronto maggiore tormento vedersi pubblicamente ritenuti buoni senza motivo che non essere oggetto di tutto ciò che è detto prima quando l'anima arriva a non preoccuparsene ancora meno le importerà del resto anzi ne godrà e le critiche suoneranno al suo orecchio come una musica assai soave è questa una grande verità l'anima anziché lasciarsi abbattere dalle denigrazioni ne resta fortificata perché l'esperienza le ha ormai fatto conoscere il grande vantaggio che le viene da essa le sembra pertanto che chi la perseguita non offenda dio ma che sua maestà permetta che ciò avvenga per un suo maggiore profitto e siccome tale profitto le appare evidente prova per le persone da cui è biasimata un affetto particolare assai tenero sembrandole che le siano più amiche e le procurino maggiori vantaggi di quelli che dicono bene di lei il signore suole anche mandare gravissime infermità questa è una sofferenza ancora più dura specialmente quando i dolori sono acuti in certo modo se hanno particolare intensità mi sembra costituiscano il maggiore tormento che possa esserci sulla terra intendo dire esteriore ne vengano pure quanti si vuole ciò ripeto se si tratta di dolori molto forti perché sconvolgono l'interiore e l'esteriore in modo tale da opprimere l'anima la quale non sa più cosa fare di sé e ben volentieri accetterebbe qualunque rapido martirio anziché sopportarli anche se nella fase più acuta non durano molto infine dio non manda sofferenze maggiori di quelle che si possono sopportare e in primo luogo concede il dono della pazienza ma ordinariamente invia varie sofferenze molto gravi con malattie di ogni specie conosco una persona che da quando il signore cominciò a farle la grazia di cui ho parlato cioè da 40 anni non può dire in verità di essere stata un solo giorno senza avere dolori e senza soffrire in vario modo sia ripeto per mancanza di salute fisica sia per altre gravi sofferenze è vero però che era stata assai incline al male e di fronte al fatto di avere meritato l'inferno tutto le sembrava poco forse altre che non abbiano offeso tanto nostro signore saranno condotte per un diverso cammino io sceglierei sempre quello della sofferenza almeno per imitare nostro signore gesù cristo anche se non vi fosse altro guadagno figuriamoci se si pensa ai molti che sempre ci sono che potrei dire poi delle sofferenze interiori se si riuscisse a descriverle bene le altre sembrerebbero piccole solo che è difficile spiegare in che modo si sentano cominciamo dal tormento di imbattersi in un confessore così guardingo e poco sperimentato da non ritenere nulla per sicuro teme tutto e dubita di tutto appena vede cose che non sono ordinarie specialmente se nell'anima che ne è l'oggetto scopre qualche imperfezione convinto che debbano essere angeli coloro ai quali dio concede tali grazie che sia impossibile averle finché siamo in questo corpo subito condanna tutto come opera malvagia o effetto di malinconia ciò non mi meraviglia di malinconia ce n'è tanta nel mondo e malvagio se ne serve per apportare danni che i confessori hanno ben ragione di temere e di stare molto in guardia ma la povera anima che vive nello stesso timore che ricorre al confessore come a un giudice ed è da lui condannata non può evitare di trarne motivo di un così grande tormento e turbamento quale può essere inteso solo da chi ne avrà fatto esperienza ecco un altro supplizio che tali anime soffrono specialmente se sono state inclini al male pensare che per i loro peccati dio voglia permettere che siano ingannate sebbene siano sicure delle grazie che talvolta sua maestà concede loro e non possano credere che provengano da altro spirito se non da quello di dio per il fatto che la grazia è cosa che passa presto mentre il ricordo dei peccati è sempre presente e si vedono piene di difetti i quali non mancano mai subito il loro tormento ricomincia quando il confessore le rassicura si attenua anche se poi ritorna ma quando egli lo asseconda aumentando la paura diventa una pena quasi intollerabile specialmente se seguita da certe aridità in cui sembra non avere mai avuto né di potere mai avere alcun pensiero di dio udendo parlare di dio è come se si trattasse di una persona che si è udita nominare molto tempo addietro tutto questo non è nulla se non vi si aggiunge per l'anima il timore di non sapere informare i confessori e di ingannarli e quantunque esaminandosi attentamente non scorga in sé nemmeno un primo moto che tenga loro nascosto ciò non le giova l'intelletto è così offuscato da essere incapace di vedere la verità crede solo a ciò che l'immaginazione gli presenta perché allora è lei la padrona e a tutte le insensatezze che gli suggerisce il malvagio a cui nostro signore senza dubbio consente di mettere l'anima alla prova e anche di farle credere che è biasimata da dio sono tanti motivi di lotta accompagnati da un'angoscia così viva e intollerabile che io non so a cosa poterla paragonare se non alle pene dell'inferno perché in questa tempesta non è possibile alcuna consolazione se vuole averla dal confessore sembra che i demoni abbiano fatto ricorso a lui perché la faccia soffrire di più un confessore che aveva in cura un'anima in preda questo tormento allorché era passato le diceva sembrandogli un'angoscia pericolosa perché risultava da tante cose messe insieme di avvisarlo quando si trovasse in quello stato ma era sempre peggio tanto che gli si convinse di non poterci fare nulla se ella prendeva un libro in volgare le accadeva pur essendo una persona che sapeva leggere benissimo di non capire nulla come se non conoscesse l'alfabeto perché la sua intelligenza era allora priva di ogni capacità in conclusione in questa tempesta non c'è altro rimedio che aspettare la misericordia di dio il quale con una sola sua parola o con qualunque fortuito avvenimento libera l'anima da ogni angoscia così rapidamente che sembra non ci siano mai state nubi in essa talmente piena di sole e del tutto consolata e come chi è scampato vittoriosamente da una battaglia pericolosa rende grazie a nostro signore che ha combattuto per la sua vittoria sapendo bene di non essere stato lui a combattere perché tutte le armi con cui poteva difendersi erano come gli sembra di avere visto nelle mani del nemico si rende pertanto chiaramente conto della sua miseria e di quanto poco possiamo da parte nostra se il signore ci abbandona le pare di non avere più bisogno di riflettere per capire questa verità perché l'esperienza avutane con il vedersi totalmente incapace le ha fatto conoscere la nostra nullità e il grado della nostra miseria la grazia infatti anche se non è certo priva perché durante tutta questa tempesta non offendene offenderebbe mai dio per nessuna cosa al mondo è così nascosta nell'anima che crede di non avere né di avere mai avuto neppure una piccolissima scintilla di amore di dio se ha compiuto qualche opera buona o se sua maestà le ha elargito qualche dono ciò le appare tutto un sogno una fantasia i peccati vede chiaramente di averli commessi o gesù che pena lo spettacolo di un'anima così abbandonata non le giovano a nulla come ho detto tutte le consolazioni della terra pertanto non pensate sorelle che se vi accadrà di trovarvi in questo stato i ricchi e quelli che vivono in libertà siano in tali circostanze più di voi in grado di rimediare ai loro mali no no a me sembra che avverrebbe loro come avviene i condannati il cui tormento lungi dal potere essere alleviato sarebbe anzi accresciuto dalla vista di tutte le gioie del mondo poste loro innanzi così è qui perché la sofferenza viene dall'alto e i conforti terreni non hanno alcun potere in tale circostanza questo nostro grande dio vuole che riconosciamo la sua sovranità e la nostra miseria e ciò ha grande importanza per quello che si dirà più avanti che farà dunque questa povera anima nel caso che debba durare a lungo questo stato se prega infatti è come se non pregasse intendo dire che non trova consolazione perché nulla penetra nel suo intimo e nemmeno comprende lei stessa quello che dice anche se la preghiera è vocale quanto a quella mentale non è questo assolutamente il momento non essendovi disposte le potenze anzi la solitudine le nuoce più che giovarle ciò nonostante lo stare con qualcuno il sentire rivolgersi la parola è per lei un altro tormento così per quanti sforzi faccia manifesta esteriormente un fastidio e un malumore di cui ci si accorge assai bene ma potrà dire quello che prova no è qualcosa di indicibile perché sono angustie e sofferenze spirituali a cui non si sa dare un nome il migliore rimedio non dico per farle scomparire non trovandone uno per questo ma per renderle sopportabili e attendere a opere esteriori di carità e sperare nella misericordia di dio che non manca mai a chi confida in lui sia a egli per sempre benedetto amen altre sofferenze esteriori causate dal maligno non credo siano troppo frequenti né ugualmente penose perciò non v'è ragione di parlarne per quanto maligni facciano e se non giungono a mio parere a rendere inabili le potenze né a turbare l'anima al punto di cui ho parlato rimane infatti sempre la ragione per pensare che non hanno potere di fare di più di quel che il signore permette loro e finché non si perde la ragione tutto è poco di fronte a quanto si è detto di altre sofferenze interiori parleremo via via in queste mansioni trattando dei diversi modi di fare orazione e delle grazie del signore se alcune di queste sofferenze sono anche più dure quanto a intensità di patimento delle precedenti come si vedrà dallo stato in cui lasciano il corpo non meritano il nome di sofferenze né è giusto chiamarle così essendo grazie sublimi di dio durante le quali l'anima intende che sono tali al di sopra di ogni suo merito la più grande di queste sofferenze si proverà prima di entrare nella settima mansione con molte altre parlerò di alcune perché di tutte sarà impossibile anche solo dichiararne la natura a causa della loro origine diversa da quelle di cui si è parlato molto più alta delle precedenti se delle pene di grado inferiore non ho potuto dire di più meno ancora potrò dire di queste altre il signore voglia concedermi sempre il suo aiuto per i meriti di suo figlio amén